Io mi sono laureato di un seminario teologico in Stati Uniti quando avevo 34 anni. Oggi io ce l'ho 61 anni. Ora, io vi dico questo perché quando io mi sono laureato di un Master in Divinity, questo vuol dire che io ho studiato durante quattro anni per avere il Master in Divinity. Oggi la gente trova un anno, due anni, fanno un Master. Quello di quel tempo erano quattro anni a tempo pieno. Non erano due o quattro ore al giorno, era tutto il giorno. E quindi io avevo questa busta di studio negli Stati Uniti e mi sono laureato. Ora, io ho studiato la lingua ebrea, ebraica e la lingua greca. E se voi fate il conto, potete capire quanti anni sono che io ho lavorato con il testo originale. E per questo faccio questa piccola introduzione perché mi sento con la libertà di dire la mia opinione riguardo a diversi testi biblici. Perché ho fatto l'esegetta. Quindi, vi spiego che al verso 3 del Salmo 23 io mi sento con la libertà di fare una modifica a quello che tutta la gente legge nella sua Bibbia. Inizio con la prima parola perché lì si parla di anima. Veramente anima, penso io, una parola esbagliata. Perché anima sarebbe l'insediamento delle mie emozioni. Quando io ho una emozione, lo sento dentro nel mio petto, anche nella mia testa. E lì sarebbe la sedia dove sono sedute le mie emozioni. Ora, quando Davide ha scritto questo Salmo, veramente lui non aveva niente di capire con questo perché ci dicono le persone scolastici che l'idea di anima è un'idea filosofica greca. Quindi la Grecia con il popolo ebraico, niente da fare. La parola qui tradotta anima, veramente in ebreo, ebraico, biblico, sarebbe nepesh or nefesh. Questo significa prendere un respiro, prendere un aliento, prendere la vita, diventare un essere. La stessa parola la trovate quando Dio fa l'uomo, il suo soffio penetra sul naso dell'uomo e ci dice che l'uomo è iniziato a essere un essere umano, si diventa un essere umano. Quindi, quando io leggo il Salmo 23, il terzo verso, ci parla di che Dio ristaura il mio essere, modifica, migliora, modernizza il mio essere. Perché il mio essere era inquinato, era sporco per il peccato, disubvidenza, eccetera, ma Lui lo fa dentro del mio essere. Anche Lui rinnova le mie emozioni. Lui fa un balsamo nel mio corpo, la mia sangue, la mia ossa, tutto il mio essere. Quindi, mi sembra non giusto dire anima, perché allora solo parlo delle mie emozioni. E quando Dio fa un lavoro, lo può fare nelle mie emozioni, lo può fare nella mia anima, lo può fare nel mio corpo. Ma qui sembra di parlare di una cosa intera, dell'essere umano. Quindi, io penso che sarebbe meglio dire, ristauro il mio essere. La seconda parola che mi sembra che non è giusta, e ve lo dico perché anche la lingua spagnola hanno fatto lo stesso errore. In inglese no, eh? In inglese hanno messo correttamente. Vuol dire le Bibbie più o meno tradizionali, conservatrici. Nel senso che quando si legge alla fine del verso 3, si parla che Dio fa qualche cosa non per amore del suo nome, come normalmente è tradotto. Ma lì la parola ebraica Ma'an significa per la causa del suo nome, per il proposito del suo nome, per ragione del suo nome, per lo scopo del suo nome. Quindi, Dio è amore, sì, è amore. Ma lui fa tutto per amore? No. In questo caso, sembra che lui fa qualcosa per la reputazione del suo nome, per la fama del suo nome. E questo è molto, molto importante di capire, perché quando lui ci porta di un posto all'altro, quando lui è con noi in diverse situazioni, lo fa per far vedere a tutto il mondo, come dice alla fine del Salmo 23, che tutti potranno vedere quello che lui fa. Quindi, quello che c'è in gioco è la sua fama, la sua immagine, la sua reputazione e il suo nome. Quindi, sarebbe meglio dire che lui fa lo che fa per causa del suo nome. Ricordatevi che la parola nome in ebraico, nella Bibbia ebraica, è molto, molto importante, molto, molto importante, e noi ci vogliamo ricordare di questo. Vi prego di condividere questo piccolo studio, messaggio. Iscrivetevi al mio canale, così ci aiutate a offrire una cosa diversa a tutti. Bene, a la prossima. Ciao.